Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Elimination Nuzlocke a Pokémon Rosso Fuoco Signori miei, nello scorso episodio abbiamo battuto la Lega Pokémon accompagnati da Rochet Ma abbiamo perso purtroppo Luke che ci seguiva da tantissimo, da tantissimo In ogni caso ragazzi è stato sostituito da Potter, il nostro Zangoose che entra ufficialmente a far parte del team Ragazzi come vi avevo promesso avrei proseguito la serie perché questa serie piace a me, piace a voi Fatemi però vedere che ci siete, che la volete sostenere, che volete che continui con un bel mi piace E un commento rispondendo alla domanda del giorno Oggi ragazzi che cosa andremo a fare? Come potete vedere ho ottenuto il Pokédex nazionale motivo per il quale questo episodio esce così tardi E nulla direi di avviarci verso il Settipelago Settipelago che è raggiungibile solo, o meglio quest del dopo Lega del Settipelago Raggiungibile solo dopo aver ottenuto il Pokédex nazionale Ragazzi nel frattempo vi spiego perché ieri non è uscito il video In teoria avrei voluto far uscire l'Elimination Nuzlocke Qual è stato il problema? Accendo la ROM E mi ricordo che dovevo catturare 60 Pokémon della regione di Kanto Ora voi direte Vabbè Creepy ma Cioè ne avevi 45 di Pokémon Ne avrei evoluti boh 5 o 6 Dovevi catturarne solo 9 Quale sarà stato il problema? Eh volevi Perché ragazzi il Pokédex di Kanto Giustamente prende solo i Pokémon di Kanto Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io di Pokémon di Kanto ne avrò avuti una cosa come 19 Un numero del genere E ho dovuto farmare Tipo 40 Pokémon di Kanto Ora mettete in conto che I Pokémon di Kanto Sono la metà circa Nel frattempo andiamo verso il Monte Brace Dove sarà diciamo Che sarà il luogo dell'inizio della quest Dicevo fate conto che i Pokémon di prima generazione Sono la metà più o meno Ora non ho guardato i numeri Ma saranno più o meno così Questo vuol dire Che ogni Pokémon che incontravo Aveva all'incirca il 50% di possibilità Di essere di prima generazione Quindi è come fra virgolette Se avessi dovuto catturarne 80 di Pokémon Per non dire di più E poi ovviamente A volte quelli di prima generazione Erano Mewtwo Che si ci smatti sopra per catturarlo Ci ho messo un intero pomeriggio Ve lo possono confermare Delle persone che sono state con me su Discord Per un pomeriggio intero Comunque ragazzi Come vedete siamo al Monte Brace Che ho fatto fuori parte Fra parentesi Cioè ho fatto fuori parte nel senso Ho battuto gli allenatori Ma non ho ancora fatto la cattura E quindi in teoria dovrebbe esserci Anche se sono un po' stufo Di catturare Pokémon Ok nel frattempo ragazzi Il Team Rocket Vuole affrontarci Perché sta nascondendo Evidentemente Un segreto Dietro a questa Maledetissima porta Nel frattempo Ah si ho insegnato Surf a John Frog E Noi iniziamo davvero Benissimo Questo episodio Non avete idea Tra l'altro ragazzi Ah intanto vi faccio vedere L'esordio di Potter Che raga un moveset Con i contro Cazzi Veramente No volevo dirvi che Voi potreste anche dire Ma Creepy Usa i cheat Qual è il problema Usa i cheat Per catturarti i Pokémon Non funzionano Sulla roba randomizzata I cheat non funzionano Me li ho passati il Rochet Gli ho inseriti Non hanno funzionato E ho bestemmiato Di conseguenza No non è vero Però Però appunto Non sono riuscito A utilizzare i cheat E quindi ho dovuto fare Un intero pomeriggio A farmare Pokémon Per poi liberarli Ovviamente Senza un apparente motivo logico Il problema ragazzi Sono stati anche i soldi Perché io Ho dovuto prendere Tante Pokémon Infatti adesso Se io non ho Pokémon Bestemmi È impossibile Che non abbiamo 34 Ultra Ball Ho dovuto farmare Anche i soldi E quindi ragazzi Dopo aver Speso tutte Cioè Dovevo rifarmi i soldi Quindi ho pure tipo Un pochino allenato La squadra Infatti li vedete Un po' Tipo alcuni al 57 Altri al 56 Montebrace Ecco qua dove volevo Far la cattura Vediamo un po' Che ci capita Forse ho usato il repellente Vero? Non ricordo In ogni caso ragazzi Siamo qua per ottenere Se non sbaglio Questo è Rubino Che dobbiamo ottenere Rubino e Zaffiro Che sono ovvie Che odio Allora Insegniamo forza A qualcuno Cazzo che aveva Ah cazzo C'aveva Luke È vero A questo punto Insegniamo la Potter Raga Forza quanto 80 Gran voce 90 Vabbè raga A sto punto Togliamo gran voce Tanto per 10 punti potenza Non è che mi faccio Sti gran problemi Non è competitive Dicevo Ho dovuto fare Un sacco di soldi E E quindi Ho la squadra Un pochino allenata Comunque raga Pottene un buon Pokémon L'ho scelto Perché mi sembrava Il sostituto Più azzeccato Per Il nostro Luke Anzi Vi faccio anche subito Vedere le statistiche Guardate che bell'attacco Che ha Purtroppo Peck In un attacco speciale Cosa in cui Luke Era davvero forte Però a molta più velocità Secondo me è un Pokémon Davvero valido Lo vedremo Ah ragazzi Vi ricordo che Oggi è anche giorno Di votazioni E quindi Fissatevi bene La squadra E deciderete Voi Nel link Che troverete In descrizione Il Pokémon Che lascerà Il team E quindi Dovrò allenarne un altro Che bello Sta cominciando a odiare Questa cosa Ok Così Di cattiveria Me lo stai dicendo così Tu mi stai dicendo così Che ho trovato un Charizard Ecco già Me lo stai dicendo così Ok Sta registrando Tutto a posto Spero che sia tutto Bello raga Perché se il video Viene male Vi giuro che sclero Se non riesco a caricarlo Per venerdì Cioè oddio Io ho un Marowak Quindi ci sarebbe La Spice's Close Che qua c'è Quindi Non posso catturarlo Perché ho già un Marowak Mi ricordo che l'ho chiamato Pure Milf Uh Pidgeot Questo raga È un Pokémon interessante E peccato che lo indebolisco Con i Con i soffi Ok Allora LSD raga È stato utilissimo Per catturare i Pokémon Con movimento sismico Raga Veramente Sono arrivato a certi livelli Che non avete idea Oh Ho preso Raga Grande cheat Io lo chiamerò Air Canto Indovinate che YouTuber C'entra con questo soprannome Il Rochet Ovviamente Perché anche questo soprannome Viene dalla Questo dovrebbe essere Dalla Nazarok a Pokémon Smeraldo Di quando avevamo una cosa come 20 iscritti I I I Cioè non è che mi avrebbe fatto proprio Schifo schifo Eh E quindi nulla Anche dopo la Lega Il Rochet non ci lascia ragazzi Magari qualche episodio In futuro ve lo porterò di nuovo Con lui Ok Stavo cominciando a pensare Di essermi drogato Eh Io raga però Sarò sincero Io Non mi ricordo Dicevo Non mi ricordo un cazzo Che schifo Cos'è successo Dovete sapere ragazzi Che io Il settipelago L'avrò fatto Il settipelago Il settipelago L'avrò fatto due volte Nella mia vita E l'ho fatto da piccolo Quindi probabilmente Mi vedrete girare Come un deficiente Senza capire nulla Questo è stato un esempio Direi abbastanza palese Comunque ragazzi Per perdonarmi Dell'assenza di video Di ieri No aspettate Io prima Però ero andato di là E mi hanno ingroppato Quindi suppongo Che adesso Dimmi Dimmi con un repellente Qualsiasi Non ho un repellente Qualsiasi Mi suiciderò No dicevo Per farmi perdonare Della mancanza di video Di ieri Ci sarà una live Domenica sera O sabato Ora non so ancora Quando farla Ok Perfetto Allora questo qua Era il braile Una volta da piccolo Lo sapevo leggere tutto Adesso non lo ricordo assolutamente Sta di fatto che non dovrebbe servire qua Esatto Abbiamo trovato il rubino Perfetto Qua dicevo qualcosa di figo Se non ricordo male Però non ricordo E Mi fate finire Quello che stavo dicendo Stavo dicendo che si Ci sarà una live Oltre al video di domenica O sabato Che sia Tra l'altro Sono pronto per portarvi Finalmente i misteri Poco Ragazzi Ne ho ideato uno Che secondo me Lo sto editando in questo momento E sta venendo davvero bene E comunque ci sarà questa live In cui faremo le fax Scomode Cosa sono le fax Scomode In pratica ragazzi Buongiorno John Frog Buongiorno Mi farete delle domande Per l'appunto Scomode Alle quali Dovrò rispondere E quindi nulla Potrebbe venire fuori Qualcosa di carino Sarà una live In cui ci sarò solo io Quindi niente ospiti particolari Meno male che non mi sia capitato Tu cancerogeno Perché Veramente E nulla Sarà una figata Secondo me Durerà all'incirca 40 minuti Quindi Ve la spammo qua Diciamo Mi raccomando Fatevi vedere Nel frattempo ragazzi Vi avviso anche che Youtube È un po' in calo In questo periodo Probabilmente perché È iniziata la scuola Diciamo che il periodo Delle vacanze È stato più roseo Però raga Ci si abitua Insomma dai Lo sappiamo ormai che Youtube funziona così Non ci sono i feed Si buggano le cose Ok parliamo Dicevo Ok gli diamo il rubino Ovviamente non si accontenta Dobbiamo cercare anche lo zaffiro E lo zaffiro ragazzi Si trova in altre isole Quindi ragazzi Direi che noi ci esploriamo Tutte le isole Anche perché Siamo tipo costretti No ok Ci facciamo tutte le isole Dalla quarta Alla settima Senza badare troppo la tra Ah già è vero che ci sei tu qua Ehi Creepy Che ci fai qui sulle isole Del settipello Ma vedi tu Smettere di copiarmi Sai è bastardo Che mi copi le miniature Comunque ho già preso Il mio uovo pokemon Esatto ragazzi Su questa isola Se non sbaglio Dovrebbe esserci La pensione Che ti permette Di fare le uova pokemon Che ovviamente In prima genna Non c'era In quanto non c'erano Ancora i pokemon Col sesso In ogni caso Adesso c'è Però io non penso Di utilizzarla Per nessun motivo In particolare A meno che io Non abbia qualche pokemon Interessante Tra l'altro Fuoricamera Eh si Fuoricamera è bellissimo Off camera Ho allenato un pochino Zapdos L'ho portato al 34 Perché In teoria è un membro Che vorrei in futuro Mettere in squadra Comunque si I pokemon li ho tutti liberati Quelli che Eh vedete anche Vedete Blu è evoluto Perché raga Avevo bisogno Del pokédex Quindi l'ho evoluto Senza motivo E Nulla Io in realtà Non so neanche Perché sono venuto qua Ah si giusto Per la pensione Ma per ora direi che Può evitare Anche perché raga La pensione Non so se lo sape Belli Ah corpo scontro No non mi interessa Figliolo E nulla Però la pensione Non mi serve Anche perché la pensione È un metodo abbastanza Scrause di allenare i pokemon In quanto non guadagnano i vs Se non sbaglio Perché mi sta dando via La voce a caso Nel frattempo raga Facciamo la cattura A quartisola Così Scialla No niente da fare E nulla Stavo pensando anche Che se ti pelago Su youtube Nuzloc Si vede davvero poco Nel frattempo No cancro Cancro Cancrissimo Questo è cancrissimo Non ci credo Non ci crederò mai Catturiamolo Per il solo fatto Che potrebbe avere O qualcosa In gola di strano Adesso Dopo sta cattura qua Stop E vediamo che cos'è Raga Poi ve lo faccio vedere Off camera Allora Catturiamo sto coso Che probabilmente Ha pure uno strumento Eh Si vabbè Figurate Non gli darò mai Il soprannome Comunque l'avrei chiamato Luvu probabilmente Sposta strumenti Se è proprio inutile Come lo schifo Raga Stop un secondo Per sistemare la gola E arrivo subito Ok ragazzi Rieccomi qua Speriamo che io Non abbia più questo problema E nulla Possiamo proseguire Dobbiamo andare Nella grotta Qua Se non sbaglio Ora Se io non vado errando Qua Bisognerebbe avere Cascata Ma forse La si ottiene Cascata Cascata Che in questa gen Non c'era Ah cattura Tu mi stai pigliando Altamente Per il culo No i puzzle Dai Dai Così 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 ragazzi Così Va benissimo Allora Io ci provo Non mi importa Comunque In questo episodio Faremo probabilmente Solo quartisola Perché Questa cattura qua A meno che io Non lo prenda subito Ci occuperà 340 anni Una roba del genere Dai No vabbè Non lo prendo 100 like Minimo E come lo posso chiamare Un chiogre Ragazzi Chiogre Come lo chiamo Chiogre Se non sbaglio È ispirato All'Eviatano Che dovrebbe essere Un antico Mostro Biblico Una roba del genere Forse non biblico Sì sì No dovrebbe essere biblico Dovrebbe essere contenuto In qualcosa di biblico Biblico Ebrei Non andiamo a fare Del black humor Andiamo a fare qualcosa Sulla religione Che fa più figo E fa più acculturato Lo chiamo Ero Genesis Così Senza alcun motivo Cioè no Dal motivo Cioè ve l'ho appena spiegato Genesis È anche carino Come soprannome E nulla Potrei anche pensare Di allenarlo Anche se Oddio Di acqua C'ho già già un frog Quindi non so Quanto mi convenga Sapete cosa vi dico io Però io vado fuori Prendo i repellenti E poi torno qua dentro Comunque In questa grotta Ragazzi Come ci viene detto Penso da questa bambina No Da questa vecchietta No Vabbè In ogni caso Lorelei ragazzi È tornata A Quartisola Che è la sua città natale È tornata Dalla Lega Pokémon E ve lo dico io Si trova Dentro la caverna Ora Dentro la caverna Ci saranno delle sorprese Particolari E una delle scene Forse più belle Di questo gioco Effettivamente Per quanto Per come la vedo io Insomma Ma adesso la vedrete ragazzi Anche perché Altrimenti Non si fa nulla In questo episodio E nulla Direi che possiamo Andare E qua ragazzi C'è il puzzle Ora fermi Io voglio Quello strumento Ok Perfetto Tu sei una sub Ball Sei utile Sei utile davvero No aspettate Ok Qua mi sa che devo cadere Per forza Perché Però Qualcosa mi dice Che devo cadere qua Io Cioè Se volete Se volete darmi Un Nobel Per l'intelligenza Non lo so Fatelo pure Ok Perfetto E qua Non ho la più palida idea Di dove devo cadere Io punto A questo luogo E prendo la Pokemon Perfetto Che è Un'altra Tra parentesi Nel caso Non ve ne foste Accorti È la seconda Che ottengo In questo episodio Nella stessa città Ok Mi piace Ok Dovremmo Eserci Perfetto Eh Volevi strumento Tu non mi scappi Tu non mi scappi Pozione Raga Pozione Non mi curo Neanche l'unghia del piede Ok Perfetto Otteniamo cascata Ora No aspettate Ok Perfetto 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 Sì 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 Cascata Va usata qua fuori Per forza Ora Devo insegnare Cascata a qualcuno Questo sarà il brutto Fatemi vedere A chi potrà insegnarla Allora Ok Come sei messo Attacco special Una merda Tu come sei messo Attacco special Ti prego Se la può imparare Charlix A parte che rido Perché un Charizard Con cascata è ridicolo Però la insegno a lui Che è un buon attacco No mannaggia Solo l'SD La puoi imparare Che schifo Vabbè Gli tolgo palla a clima Che praticamente Non la uso mai Raga Ok Perfetto Risaliamo sta cascata Vai così Di cattiveria Ok Dove siamo Forse siamo arrivati Dimmi di sì Dimmi di sì Ok Perfetto E ora dovrebbe esserci La scena Esatto Eccola qua Allora lei Giù le manacce Dai pokemon Della grotta Altrimenti vedrete Ragazzina Chiudi il becco E togliti di mezzo Sloggia Prima che ci innervosiamo Eccola qua Creepy Cosa ci fai qua Vabbè ci salutiamo dopo Ora aiutami Dobbiamo cacciare questi cattivoni Stanno cercando pokemon Qui per andarli a vendere Tu occupati di quello lì Ok Fammi andare però Benissimo Battaglia contro il team rocket Arraga che come potete Tranquillamente vedere È ancora In circolazione Non è morto E non è un mago Ma è ancora in circolazione Mi sa che ho detto Duelle senza accorgermene Ma dettagli Tra l'altro Mi aspettavo dei livelli Un pochino più alti Figlioli Ma forse raga Questo qua è solo il team rocket Che fa pena Attenzione Hitler Incredibile Proprio lui Giù a casa Perfetto E attenzione Crobat Crobat che Morirà tantissimo Perché john frog raga È troppo potente Lo sanno tutti Distrutto Che ridicoli mollaccioni Avanti parlate Dove avete portato i pokemon Che avete catturato Puoi scordartelo Non te lo dirò mai Confesso Ti congelerò come un pacco di spinaci Ma come Ma come 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 un pacco di spinaci Va bene così Sono andato e cresciuto su queste isole Non pensavo che potessero diventare il covo di questi criminali Ma tecnicamente non sono effettivamente il covo Sono semplicemente Ehm Oltre a che questa zona è utilissima Mi dicono dalla regia Non è che sono Ehm Loro e lei E il loro covo Cioè loro erano qua Ehm Per prendere pokemon Ma Cioè Ciò non vuol dire che Questo sia il loro covo Ok perfetto Allora Ehm Suppongo di aver completato Tutto ciò che c'era da fare In quest'isola Perché non mi viene in mente nient'altro In effetti Forse non ho visitato sta casa Ma non Non penso che ci sia qualcosa di importante No Vabbè Sarà d'onore Hai avuto accesso Ma 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 Cioè A livello celebrale Tu esattamente Quali problemi avresti Comunque nel caso Lo stesse chiedendo No Non si può usare surf Ma non sarà Diciamo Non sarà sempre così Perché le isole Sono tutte Il mare attorno alle isole Diciamo che è tutto Più o meno surfabile Ora noi Tecnicamente di tempo Ne avremmo Magari anche solo Per andare A vedere Quinti isola Senza farci nulla di che Tra l'altro Raga io Quinti isola Non me la ricordo Appena la vedo Farò Ehm Ok Perfetto Allora Su questo qua C'era una storia caruccia Perché c'era tipo Questa qua Si lamenta Sai cosa mi ha detto Mio marito Stamattina Prima di andare a pescare Non comprare niente Per cena Adesso stiamo a vedere Se porta qualche pesce Ovviamente suo marito È quello lì Ehm Ragazzi Qua c'è il Covo del team rocket Che se non sbaglio Per ora Non sarà Diciamo Visitabile E se non ricordo male Qua a nord C'è un altro percorso Molto interessante Con delle cose Molto interessanti Direi Molto interessanti Direi che possiamo Ragazzi Fare la cattura qua E sbaragliare I membri del team rocket Che incontri No Come livello 10 Cosa vuol dire livello 10 Cioè vuol dire Che Che sei Schifoso Non lo so Però ci deve entrare Vabbè Dicevo che I membri del team rocket Quali possiamo battere Velocemente Ma Il rifugio Non sarà accessibile Per il momento Sarà accessibile Alla fine Della quest Del settipelago Ok Catturato Mr. Mime Che non so come chiamare Cioè È un mimo È un mimo Quindi Fa gesti Diciamo Fa dei gesti E donna Fa dei gesti No Cioè Ehm Fa dei gesti Perché è un mimo No Quindi Non parla Ehm Perché è un mimo È femmina Quindi non posso chiamarlo Ehm È muto Cioè lui Non dice nulla Ehm È muto proprio Cioè Ehm Chi c'è di muto In questo mondo Che Nessuno Ehm Muto Ehm Un mimo Lo chiamo Ehm Non lo so Come lo chiamo Consigliatemi Un soprannome Vi prego Non ho la più palida idea Ehm Per Ludwisk Raga Evito pure di darglielo Perché tanto Cioè Sarà È l'ultima cosa Che utilizzerò Sarà quel coso Veramente Piuttosto mi faccio eliminare Dieci Pokémon Non mi importa Ma io Ludwisk Non lo uso Che poi Non è Ludwisk Ma è Luvdisk Ok Qua sono già un pochino Più forti Non mi piace la cosa Semaforo Sempre lui Che purtroppo Abbandonato Perché raga La triade Come avete sostenuto voi Era troppo forte Per esistere Quindi Semaforo Ha deciso di Ascendere al paradiso Ok Vai forza È bello Mi sei piaciuto Potter Mi piace questo Pokémon Raga Mi piace Mi piace Mi piace Allora L'unico al 56 per ora È Cosmo Quindi direi di farlo salire Di livello Taglio È ovviamente Cosmo Raga La potenza Ok Affrontami Mucer Forza Forza e coraggio E ripensandoci Potevi anche Non affrontarmi Sì ma l'hai preso In quel post Proprio malissimo Suala Perfetto Giù anche lui Ottimo Tra l'altro Non ho il counter Sottomano Perché Ho dovuto tagliare Sono le 7 e 10 Quindi suppongo Che il video Sarà venuto Di qualcosa come 25 minuti Un numero Che si aggira Attorno a queste cifre Ok Perfetto La cattura ovviamente L'abbiamo già fatta E ha fatto schifo Come al solito Ah Anche di qua C'è qualcosa di carino Non è di particolare In realtà Però adesso Lo andiamo a vedere Ragazzi Perché Perché Altrimenti Poi non lo faccio più Quindi nulla No L'episodio Sarà un po' più lungo Del previsto Taglio Lucio Ciao È stato un piacere 9 9 C'è Bellissimo Però è morto Perché Vabbè Dettagli Allora Come vedete Abbiamo solo Un'ortica D'articuno Come password Che è fantastica L'abbiamo ottenuta Prima Dalle reclute Che custodivano Il passaggio Per andare A ottenere Il rubino Colonna Rocciosa Tra l'altro Questa è una cattura Colonna Racciosa Attenzione Ai termini tecnici No vabbè Apriamo anche Sti allenatori Stavo dicendo qualcosa Di sensato Prima Sì L'abbiamo ottenuta Me l'hai rubato Dal box Dopo vado a controllare L'abbiamo ottenuta Quando c'erano le reclute Che custodivano Il rubino Ho visto Una vita Passarmi davanti Lo giuro Maggi fuoco Ti attacchi Calcio rullo Calcio rullo Ok Perfetto Uh Tentenna Che culo Proviamo un oltraggio Dai che è quasi Andato giù Perfetto Ole E basta Il discorso Sulla roba lì L'ho finito Curiamo cosmo Ragazzi E tra l'altro Ricariche totali Ho i residui Della lega Raga voglia Questo mi impuzza Tanto di Mare a roba Sì proprio di questo Cattura Ragazzi Vi offendete Se dico che per me Questo qua è un cancro Cioè veramente Entraci Hitmon lì Hitmon Hitmon Qui Dov'è la Q Dov'è anche la Q Sta fuggendo Dal suo stesso Soprannome Ok Questo faceva Proprio schifo Era Era Inascoltabile Veramente Io vedo Le visual Così Che hanno fatto Tutti morti Tutti nella tomba Vi siete morti Con un video Di creepy stories Io ve lo dico Ho smesso di vedere Stelvi dove accorgerete Che avete davanti Gesù che vi batte Il 5 Cheat Pezzo stella Wishcast Perfetto Che Ho pronunciato Di nuovo male Perfetto Sono un eroe Della pronuncia Raga Ok Ultimo avicoltore Che è un pokemon Bellissimo Proprio Cioè dalla regia Mi dicono che A parte che dalla regia Mi dicono che Non gli faccio nulla Però Allora Fatemi ragionare LSD con stramontante Dovrebbe andare bene Non l'avessi detto Lo stronzo Fatto rafforzatore Dai muori Non lo butto giù Eh immagino Ok perfetto Con cascata Però mi sa che vai a casa Ottimo così Mi sale un rutto Di dimensioni apocalittiche Stramontante E giù anche ivi Ottimo così Possiamo proseguire Ora io non ricordo Sì qua dovrebbe esserci La famosa Colonna Colonna di roccia Oh che tristezza C'è la tua squadra Sembra in piena salute E qui C'ho seppellito Il mio onyx Si chiamava Tectonix Cioè perché Dai sì Lasciamo le musco Che abbiamo trovato prima Raga Che sembra quasi Il segno del destino Grazie Era la bevanda preferita Del mio tectonix Non ti conosco neppure Ma il tuo gesto Mi ha un po' risollevato Per ringraziarti Vorrei darti questo MT42 Che contiene Non lo so Raga era un momento triste Quando ero piccolo Ci rimasi male Il ricordo a questa cosa qua Del fatto che fosse morto onyx Anche perché Da piccolo Io ricordo che Adesso vi racconto Un aneddoto Della mia Della mia infanzia No Io da piccolo Giocavo con mio padre No E io non so Per quale motivo Ma mio padre Conosceva onyx No probabilmente Aveva visto l'episodio In cui onyx In cui brock Combatteva contro rush No E E io ricordo Se non vado in random Che onyx Usava la mossa stritolamento Che in realtà Non esiste E allora Quando giocavo con mio papà La lotta Cioè fra virgolette Non è che ci ammazzavamo di botte Giocavamo appunto Lui mi faceva sempre Faceva sempre onyx Che è l'unico pokemon Che conosce Oltre a pikachu E faceva stritolamento E io mi divertevo un botto E siccome poi dopo Al setipelago Ci arrivai dopo tanto tempo Ci arrivai Fate conto che rosso fuoco L'ho preso a 5 anni E al setipelago A questo punto del gioco Ci sarò arrivato a 11-12 Ci rimasi male Ci rimasi male Perché onyx L'ho sempre associato a mio padre E la cosa Mi colpì abbastanza Vabbè Comunque ragazzi Il video finisce qua Nel prossimo Esploreremo il percorso A nord di Quintisola E andremo a visitare Anche le altre Nella speranza Di fare più cose possibili Non posso dirvi esattamente Che cosa faremo Perché non ne ho idea Comunque ragazzi Girando il personaggio Vi saluto Spero che il video vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito A cercare un mi piace A commentare Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Postate i social In descrizione Per rimanere sempre aggiornati E rispondete alla domanda Del giorno Che sarà come al solito Qui sotto nella sidebar Detto ciò Noi ci becchiamo In un prossimo video